Da oggi a Roma saranno effettuati tamponi a tappeto ai componenti della comunità del Bangladesh. Lo comunica l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. È stato contattato l'amministratore delegato di aeroporti di Roma per rappresentare l'esigenza di stringere i controlli sulle provenienze dal Bangladesh. È necessario inoltre garantire la quarantena per chi arriva da quelle zone. Ad oggi attraverso l'app Io sono stati erogati più di 306.523 bonus vacanze per un controvalore economico di oltre 140 milioni. Il buono è già stato speso da 5.432 famiglie. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'innovazione Paola Pisano aggiungendo che si può utilizzare per i soggiorni in Italia a partire dal 1 luglio e potrà essere richiesto fino al 31 dicembre. La ministra dell'istruzione Azzolina ha firmato il decreto con il quale vengono stanziati 855 milioni per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico a favore di province e città metropolitane. Si tratta di un importante investimento che interessa le scuole secondarie di secondo grado. Stiamo lavorando per sbloccare tutte le risorse possibili sull'edilizia scolastica. Molto è stato fatto ma c'è ancora tanto da fare. Gli investimenti ci sono, bisogna spendere velocemente e realizzare le opere. Dal 1 gennaio 2021 si punta a portare il 60% dei dipendenti pubblici in smart working, il tutto accompagnato da un monitoraggio per l'assistenza in questa fase di riorganizzazione. Lo ha detto il ministro Fabiana Dadone commentando le novità introdotte con l'emendamento al decreto rilancio sullo smart working nella pubblica amministrazione. Ci saranno enti che hanno già tutti i servizi informatizzati che hanno reso i dati accessibili in totale sicurezza tramite i VPN da casa. Ci saranno invece altri enti che non hanno questo tipo di digitalizzazione quindi hanno meno attività che si possa svolgere da remoto. Si tratta di mettere in capo al dirigente della pubblica amministrazione l'onere e l'onore di capire quale attività si possono svolgere da remoto ed entrare nell'ottica di non stare in presenza fisica. Grazie.